Vaccini durante la giostra del Saracino. Domenica 5 settembre il camper dell'Asda Toscana Sud-Est arriva infatti nel cuore del centro storico di Arezzo in piazza Sant'Agostino. Un'iniziativa speciale di vaccinazioni anti-covid che si aggiunge alle altre messe in atto nelle scorse settimane come la vaccinazione dei figuranti e dei partecipanti dei quartieri che permetterà così lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza. Quando è stata chiamata a dare una risposta concreta sul piano della collaborazione interistituzionale l'amministrazione comunale ha sempre risposto presente, sottolinea il vice sindaco Lucia Tanti. Dalla disponibilità concessa per il teatro tenda al taxi gratis per gli over 65 e gli appartenenti alle categorie fragili e vulnerabili che intendevano recarvisi. Adesso guardiamo soprattutto i giovani e in particolare alla fetta di quest'ultimi che compongono la generazione scolastica. Grazie ad un mezzo speciale, un camper attrezzato, aggiunge poi il direttore generale Antonio Durso, l'azienda è in grado di offrire ad una platea ancora più ampia la possibilità di vaccinarsi. Un mezzo avanzato è dotato di tutti i comfort per svolgere le operazioni in piena sicurezza. Avremo a disposizione i vaccini Pfizer per chi ha meno di 60 anni e Johnson & Johnson per chi supera questa età. Il camper sarà posizionato in piazza Sant'Agostino dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. I cittadini potranno sia prenotarsi tramite il portale regionale oppure presentarsi liberamente. Sì, lo scopo di questa struttura mobile è proprio quella di avere la capacità di avere oltre la certificazione di un buotorio mobile, quella di avere una dinamicità nel senso che è possibile attrezzarla a seconda di quelli che sono gli eventi e quindi portare vicino a dove c'è stato l'evento quello che serve. Per cui ecco questa qui diventa uno strumento fondamentale soprattutto in questi periodi in cui dobbiamo avvicinarsi noi ai cittadini per far vedere che possiamo fare una campagna vaccinale che sia efficace e quindi stimolare anche la voglia di poter, dando l'esempio a noi, di poter essere, di quindi accoglierli e fare i vaccini.